Io sono Enrico Pasquale Pratico Abbo da Motta San Giovanni Ho 22 anni E sono un ragazzo carino E quelle ragazze che mi piacciono a me Mi piacciono biondi, a pelle nere Macri, bellissimi, sex Che facete voi? Io sono a casa Lavoro, sappo, avigna 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 Che facete voi? Io sono Enrico Pasquale Pratico Sono un carino ragazzo Trovate a me Sopra zap Enrico Pasquale Pratico Il mio numero lo do a Giovanni Zacchuri Così ne trovate voi E sopra facebook Enrico Pasquale Pratico E sopra Che facete voi? La mia vita sono qua, io come cattai per la session 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo e voi facete. E io sono il rico, Maschua le pratico. Ciao